300 metri di altezza guardate che quantità d'acqua che arriva sembrano goccioline ma chi riesce a vedere una goccia a 300 metri di distanza ecco c'è la Staubach Fall a Interlaken sta diluviando come Dio la manda si sta lagando tutto, non si sa come può tornare a casa la macchina è già sotto l'acqua guarda come piove si, una sega, siamo dietro la cascata uh, si imbagna tutta la macchinetta ecco l'acqua che arriva dal cielo 300 metri di altezza questa cascata uh, tutta l'acqua uh, uh